Italia Nostra ribadisce ancora una volta il proprio dissenso all'ascensore per facilitare l'ascesa al monte San Paolino di Sutera e lo fa per bocca del presidente regionale Leandro Ianni. Quest'ultima è tornata ad intervenire sulla vicenda dopo che l'assessorato regionale ha approvato un nuovo finanziamento da 76.000 euro per mettere finalmente in funzione l'opera. Notizia quest'ultima resa nota dal coordinatore del gruppo di Forza Italia di Sutera Onofrio Magno. Ianni non ha esitato a definire l'ascensore un'opera illusoria e surreale, già costata 2 milioni di euro di fondi pubblici, consegnata nel 2012 al comune del Vallone dalla ditta che lo realizzò, ma mai entrata in funzione nell'arco di dieci anni. Per il presidente d'Italia Nostra non c'è dubbio che l'opera snaturi la fisionomia di un luogo suggestivo qual è il monte San Paolino, quando invece i luoghi meriterebbero interventi di restauro ambientale e paesaggistico. Il dibattito resta aperto.